Non male c'è zona rossa, c'è pieno di gente, io boh, vabbè, tutti vecchi, ecco bambini nell'altalena. Ciao besti, ciao orridi. Allora, volevo parlare di questa cosa qui. Io sono in un gruppo Telegram, ok? Sono in un gruppo Telegram di Rolling Academy perché ho preso il suo corso. Diciamo, mi è servito per impostare il profilo Instagram nel migliore dei modi, però non ho seguito proprio tutte le lezioni, cioè nel senso l'ho vista, però alcune non mi sento di farle, no, perché non ho voglia, ma proprio non fanno parte di me. Praticamente dovrei fare quello di un soldone, dovrei fare lo youtuber anche su Instagram, cioè detto in tre parole, però il senso praticamente è quello, no? Quindi nulla, tornando al discorso, io sono in questo gruppo Telegram dove ogni tanto qualche volta sorte fuori qualche discorso, in realtà quasi mai, se devo essere sincero, i discorsi sono molto, un po' frivoli. Quindi ultimamente tra l'altro c'è stata questa cosa, una persona ha fatto una domanda, ha detto ragazzi ho bisogno di un consiglio perché non capisco come mai il mio profilo cresce lentamente, invece vorrei che crescesse più velocemente. Nonostante io ho fatto tutti i passaggi di sto cazzo del corso, insomma ho messo la bio per bene, le foto per bene, tutto in linea, tutto coi colori bellini e tutte ste puttanate. E quindi è nata sta discussione, questi ragazzi siamo in una trentina, non è che siamo tanti, però comunque c'è stata diversa gente che diceva va potresti fare così, potresti fare cosà, coinvolgere i tuoi followers, fare dei video che interessano anche per raggiungere altri followers, quindi le tag oppure, insomma, tutti questi discorsi qui che ora nello specifico non sto a dirvi, insomma un po' le parole, tutti ste personaggi, di ah guarda il mio profilo per esempio, io ho fatto tutte le foto in bianco e nero, sono in linea, però ancora non deve uscire il mio singolo, cioè allora scusate ragazzi, a me mi sembra che qui si sta perdendo un po' il capo. Allora io sono d'accordo che il profilo Instagram più bellino è, più ti viene voglia di seguire, certo, anche io mi ci sono impegnato, ho fatto una roba molto molto semplice, coi colorini tutti bellini, tra l'altro se vi va seguitemi su Instagram, vi lascio il link in descrizione, sono cose tecniche che si possano fare tutti, basta avere un pochino di fantasia, inventarsi a che cosa, scegliere un colore da abbinare al profilo, poi coinvolgere i follower, che cazzo ne so, con delle stories interessanti, tutte ste puttate qui. Il problema è che io vorrei dare un consiglio a tutta sta gente che parla di queste cose, ma come mai un mi seguono eppure io ho il profilo e tutto bello colorato, con gli arcobaleni, tutte ste cazzate. Oh ragazzi, ma notizia dell'ultima ora, se la vostra musica fa cagare e non vi seguono, anche se voi ci avete i colorini bellini nel profilo Instagram, c'è tutti a ragionare, ah io c'ho così, io so cosa, io c'ho i colorini qui, metto le stories coerenti e metto i posti, devo essere un pochino più vari, un pochino più diversi tra loro, o ci fosse uno e dicesse, oh ma magari la tua musica fa cagare, c'è questa cosa, sta gente che si mette a fare consigli per il marketing, consigli per quello, consigli per quell'altro, o mai una volta dicesse ragazzi, io vi dio tutte ste cose, poi però se la vostra musica fa schifo e non vi seguono, e che poi secondo me può funzionare veramente al 50% sta cosa di essere youtuber su Instagram, di dire la propria, di aprirsi, di dire i propri pensieri, tutte ste puttanate, io ragazzi, che vi fa un esempio, a me, allora a me fa schiantare da ridere, Pino Scotto, io lo so che può rimanere sui coglioni, un vecchio logorroico che dice sempre le solite cose, sul rock rimane un po' sulle palle, perché è molto provocatorio, però a me fa ridere per quello, perché è simpatico per quello, perché io lo seguo, non lo seguo dalla mattina alla sera, cioè mi gara, ma mi fa schiantare ogni tanto, può vedere, però la sua musica mi fa cagare, nonostante sia comunque un genere che a me piace il rock, però la sua musica mi fa cagare, capito? E quindi questa cosa di coinvolgere le persone con tutte ste puttanate miei pensieri, io mi apro, ti dico la mia su quell'argomento lì, può creare appunto un interesse a seguirti, ma poi si torna sempre lì, se la tua musica fa cagare, quelle cose che fai non servono un cazzo, cioè se una persona gli garba la musica e venda a te, perché ha visto un video, che lo so, dove parli di prosciutti, poi della tua musica non gli frega un cazzo, vorrei magari non parlare di prosciutti, magari parlavi, che lo so, dell'argomento di oggi, cioè, che lo so, tengono aperte le chiese, i teatri chiusi, ho capito? Io sono interessato perché sono musicista, mi piace la musica, vengo a vedere, però comunque devo sentire la tua musica e però mi fa cagare, capito? Ci vuole anche culo, quindi non so quanto veramente sta cosa dell'Instagram, tutto questo casino del marketing musicale funzioni veramente, secondo me funziona al 50%, perché puoi avere culo, uno su dieci gli garba la tua musica, la maggior parte, chi ascolta musica, o la va a vedere dai vivo, o ascolta le solite ose, perché è sicura che ascoltando delle ose lì, gli piglia bene, è vero anche questo, io sto parlando per i trentenni, invece per quelli più giovani, invece magari potrebbe funzionare di più, chi lo sa? Vabbè, questo era un mio pensiero, noi ci si vede al prossimo video, mi raccomando, che vi devo dire nulla, ora non so quando uscirà sto video, però siamo in zona rossa, come al solito non si può fare un cazzo, non si può fare le proprie, si può fare una sega, ora quando è aprile c'è da andare a fare la registrazione per il contest, e poi non so quando uscirà il video, uscirà penso a maggio, quindi nulla vi dovrò richiedere un'altra volta di votare, vabbè, e niente, ci si vede al prossimo video, mi raccomando, seguiteci su quelle cate di Instagram, di Facebook, tutte le puttate lì che servono solo per rimanere in contatto con noi, che insomma, se vi garba la nostra musica, mi fa piacere, seguiteci, se no, se vi fa cacare, non mi seguite, capito? Non mi seguite, su Instagram, e vedo tutta gente che vuole che mi segui, perché spera che io poi li seguo, ma a me non me ne frega un cazzo, capito? Ciao. Grazie a tutti